Dagli Atti degli Apostoli oggi sentiamo proclamare il martirio di Stefano che Saulo approvò. Da dove nasce sempre una vocazione? Nasce sempre da qualcuno che dona la vita, che non ha un volto, non ha un nome per te, ma lo ha per Dio. Ed è proprio attraverso la morte di Stefano che Saulo inconsapevolmente ha cominciato a sentire il nome di Gesù. Apparentemente il fallimento di Stefano, ma sappiamo che attraverso questo fallimento umano Dio è arrivato ad aprire i cuori attraverso lo Spirito a tanti altri fratelli. Questo ci deve dare allora molta speranza perché è quello che apparentemente per noi è un fallimento anche nella nostra famiglia, nella nostra comunità, dove apparentemente gli altri hanno un cuore indurito. In realtà il Signore chiede a te il sacrificio del cuore, il sacrificio anche del vedere i frutti del tuo amore, ma tutto finisce in bene, cioè tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi davvero dobbiamo avere questa certezza che ciò che ai nostri occhi è solo fatica e fallimento, in realtà il Signore lo tramuterà in benedizione, conversione e benevolenza per chi ci sta davvero a cuore. E allora è questa la piccola osservazione che vorrei fare oggi. Il testo dice, Stefano afferma, voi opponete sempre resistenza allo Spirito. Ecco, lo Spirito non è un'alternativa a Gesù, è lo Spirito di Gesù che ci viene stato dato, ci è stato dato sulla croce. È lo Spirito di Gesù, quindi voi opponete resistenza a Gesù. E allora Gesù invece ci ha dato il suo Spirito, il suo Spirito, non quello di uno qualsiasi, per essere rafforzati nell'uomo interiore, direbbe San Paolo nella lettera agli Efesini. Allora occorre resistenza allo Spirito e non permettere che lo Spirito possa rendere presente Gesù nella nostra vita. Possa dire Gesù quello che è bene per la nostra vita. possa permettere a Gesù di darci indicazioni, di metterci i Suoi sentimenti nella nostra vita. Opporre resistenza allo Spirito vuol dire vedere con gli occhi umani e quindi vedere non più in là del nostro naso e vedere ciò che solo la nostra piccola testa può interpretare. E se il nostro cuore è abitato oltretutto dalla gelosia e dall'invidia, vede ciò che è male anche dove c'è il bene. Questi uomini che hanno lapidato Stefano sono stati capaci solo di prendere in mano delle pietre e tirarle verso un uomo. La loro vista era solo sul male, su quello che il loro cuore indurito hanno capito. Stefano, invece, pieno di Spirito Santo, vede i cieli aperti e la gloria di Dio. È un altro modo di vedere. E allora la domanda è questa. Io sono abitato dallo Spirito di Dio? Perché se io sono abitato dallo Spirito di Dio, vedo oltre. vedo il cielo aperto, vedo il Signore, vedo il bene. Ma se io non sono abitato dallo Spirito di Dio, io vedo solo quello che la carne mi dice. E la carne, come dice San Paolo, è piena di ipocrisia, invidia, gelosia, fornicazioni. Ecco, l'elenco di San Paolo. Allora vedete che il discernimento è facile da fare. Allora, io sono abitato dallo Spirito e con franchezza, diciamo, quando io oppongo resistenza allo Spirito. Perché lo Spirito mi dona la verità di me stesso e la verità sugli altri. e lo Spirito mi dona una verità che è buona, non è una verità di giudizio, è una verità buona sugli altri. Gesù ci porta alla verità di noi stessi e poi ci usa misericordia, cioè non ci giudica, ma permette che il suo giudizio su di noi sia un giudizio di misericordia. ci porta alla verità di noi stessi e poi ci dice scegli tra il bene e il male, scegli tra la vita e la morte, scegli tra la libertà e la prigione del tuo cuore. E allora oggi noi ci possiamo chiedere, ma Stefano era proprio un uomo, come dire, infatuato di Gesù? Un uomo che si è lasciato così facilmente prendere, lapidare? Ha detto tante belle cose, ma poi... oppure la fortezza di Dio abitava il cuore di Stefano. Ha detto ciò che era la verità, ha raccontato la storia della salvezza a questi uomini e loro davanti a questo hanno deciso di lapidarlo. Ma noi possiamo decidere di ascoltarlo. e allora anche noi diventeremo uomini spirituali, donne spirituali, cioè abitate dallo Spirito, che non oppongono resistenza alla voce di Gesù in noi. Quali sono le situazioni in cui io oppongo resistenza allo Spirito? Quali sono le situazioni concrete della mia vita, della mia famiglia, della mia comunità, dove io oppongo resistenza allo Spirito, perché continuo a leggere la storia con i miei occhi e non con gli occhi di Dio. Ma non vedremo mai i cieli aperti e non vedremo mai la gloria di Dio. Allora, la considerazione è questa. o sbaglia Dio o sbaglia Dio, quindi sbaglia Stefano, o sbagliamo noi. Saulo è rimasto a guardare. Apparentemente non è cambiato nulla nel suo cuore. Deposero i mantelli ai piedi di Saulo, che approvava. Cioè c'è sempre un momento nella nostra vita in cui noi possiamo iniziare male, come Paolo. Possiamo anche noi approvare il male, come Saulo. Ma poi lo Spirito di Dio, che tutti i giorni viene in noi, abita in noi, può davvero aprire una breccia per il Signore. E quindi cambiarci il cuore, come l'ha cambiato in Paolo. Non gettiamo le armi, non continuiamo a dire «Sono fatto così». Si può cambiare, come lo Spirito ha cambiato Saulo. E come ha cambiato anche il cuore di Stefano, perché non è diventato santo tutto in un colpo, martire tutto in un colpo. C'è stato un cammino di docilità, di apertura allo Spirito. Ecco perché può dire «Voi opponete sempre resistenza allo Spirito», perché anche Lui è passato dalla opposizione alla docilità, dal tenere in mano la sua vita a consegnarla a Dio. Questo è quello che la Ressurrezione permette anche a noi oggi. Amen.